L'intervento che abbiamo presentato alla settimana della bioarchitettura e sostenibilità riguarda un intervento di restauro conservativo di un fabbricato a Saramazzoni in provincia di Modena. Restauro conservativo con, oltre a ristrutturazione edilizia, anche inserimento di impianti tecnologici ad alta efficienza. I punti salienti del progetto riguardano il mantenimento della qualità architettonica originaria del fabbricato, che risale ai primi anni del 1900, quindi un'attenzione ai materiali, alle scelte architettoniche, oltre che alla disponibilità di alloggi per anziani, e quindi l'inserimento all'interno di un contesto così complicato da ristrutturare, già di suo, anche di vanno ascensore per arrivare a dotare tutti i locali presenti nell'edificio di accessibilità secondo la legge 13.